fabbrica della comunicazione iscriviti al canale youtube e attiva la campanella per non perderti le novità segui le interviste video sul sito anche su telegram e gli speciali in podcast su spotify sostieni fabbrica della comunicazione insieme possiamo costruire un mondo migliore buongiorno a tutti ben ritrovati e ben trovato a michele putrino per il nostro consueto approfondimento stoico ciao ciao beatrice buongiorno allora con michele naturalmente salutiamo tutti coloro che seguono questa rubrica che come dicevo è un approfondimento quindi un'integrazione rispetto a quello che è il nostro normale usuale stile di vita quindi diciamo un approccio che serve per una comprensione ancora più ampia di quello che si vive nella quotidianità sebbene la filosofia stoica insomma sia decisamente lontana dalla nostra epoca da quello che stiamo vivendo e allora la paura uccide la mente questo è un tema direi fondamentale e quindi con michele giustamente abbiamo ritenuto opportuno fare una puntata su questo perché noi comunque ci troviamo sempre in uno stato di paura anche oggi andremo a vedere attraverso una lettera quella di seneca in lettere all'ucilio nella numero 85 andremo proprio a leggere alcuni passi che parlano di paura parlano di coraggio perché il coraggio appartiene agli stoici giusto e beh sì è la filosofia del coraggio guarda ci tengo anche a chiarire una piccola cosa quando lo stoicismo no anche quello che stiamo facendo con te questa rubrica ovviamente ha un fine particolare cioè si rivolge ad un certo tipo di pubblico alle persone che vogliono migliorare che sono pronte ad affrontare le difficoltà a guardare in faccia la realtà per quella che è quindi se vogliamo è anche stiamo parlando sempre ad un'elita ad un gruppo di persone che sentono un certo bisogno ok una certa visione del mondo e che non vivono di illusioni e non vogliono vivere di illusioni quindi penso sia importante chiarire questo perché molte volte le persone dicono a però dateci speranza però questi discorsi sono duri certo che sono duri perché chi si dice di solito eh chi vuole salire la montagna e beh non è una passeggiata è difficile però chi sale chi arriva poi alla vetta non è uguale a chi rimane alla base quindi questo è importante questa cosa che siano hai fatto bene tra l'altro a mettere come dire il punto sulla questione della formazione perché comunque come sempre facciamo in questo canale eh sono spunti per riflettere eh per migliorarsi perché no per riuscire poi attraverso questi spunti a a trovare un proprio percorso a fare degli ulteriori approfondimenti quindi andare a ricercare anche altro eh e a non fermarsi qui quello che mh volevo dire visto che stiamo parlando di paura e di coraggio tutto questo mi fa pensare eh no quello che abbiamo vissuto fino a tre anni fa no diciamo che l'Italia è stata letteralmente spaccata in due e chi segue questo canale o canali di libera informazione lo sa molto bene che abbiamo combattuto battaglie aspre anche e soltanto per ribadire quelli che sono i nostri diritti costituzionali quindi in quel caso siamo stati tutti coraggiosi secondo te guarda per me quel quegli anni sono stati molto importanti e ma nello stesso momento per me per molte persone in realtà ma a mio parere eh sono è stato un periodo mettiamola così diciamola in maniera diretta è una grande occasione persa è stata una grande eh occasione persa una grande eh occasione che è stata sprecata perché di fronte a quella situazione doveva emergere una visione diversa dell'uomo doveva emergere l'uomo appunto forte di carattere che segue dei principi che agisce appunto senza paura per una visione alta dell'esistenza infatti io ho sempre pensato in quel periodo è quell'occasione dello stoicismo l'occasione in cui l'uomo stoico riemerge di nuovo e invece quello che è accaduto è che in molti non dico in tutti ma purtroppo la maggior parte di queste persone si sono messe invece a seguire pifferai magici io lo dico in maniera senza senza peli sulla lingua c'è gente che vende di nuovo illusioni che vende di nuovi inganni che vende di nuovo speranze di salvezze future certo è inquietante questa cosa è tutto chiaro l'abbiamo detto in maniera edulcorata pifferai magici insomma si è capito benissimo quale sia il tuo pensiero ma credo assolutamente condivisibile per certi aspetti perché in realtà la paura ha anche a mio parere questa duplicità no di aspetto per cui può spingerti ad affrontare le cose con coraggio però poi potrebbe anche invece presupporre come dicevi tu un attaccamento alla speranza cioè un attaccamento a ad altre cose che siano comunque d'ausilio per superarla no la paura ti spinge alla speranza e quindi ti spinge alle illusioni in realtà la speranza ti distrugge l'angoscia l'ansia da dove nasce nasce dal speranze distrutte torniamo allo stoicismo così come lo abbiamo approntato per chi ci segue oggi alla lettera 85 c'è un passo che dice così testualmente chi è coraggioso non teme chi non teme non è triste chi non è triste è felice questo sillogismo è degli stoici per capire bene il significato bisogna innanzitutto capire che felice per gli stoici e così come per tutto il mondo antico significava qualcos'altro era il significato di questa parola è molto diverso rispetto a quello che viene in mente a noi quando quando sentiamo questa parola felice significa semplicemente che tu ti senti in armonia con il tuo essere fiorito in un certo senso non qualcosa che è riuscito a sbocciare ok ecco in quel senso in linea quindi in armonia in linea in armonia ok noi invece oggi quando parliamo di felicità intendiamo gioia contentezza insomma esaltazione esattamente lo sì esatto esatto un sentimento diverso e questa è una di quelle tragedie che di cui abbiamo parlato tante volte dettata anche dalle traduzioni no dal riportare l'italiano alcuni termini quindi certo e non è facile per quello che riguarda essere triste invece ebbè la tristezza uguale stessa stessa questione triste è quando tu ti lasci andare all'emotività e tu non se tu ti senti in armonia col tuo essere è impossibile essere triste anche anche appunto nel bel mezzo di una battaglia anche rinchiuso all'interno di una prigione non puoi essere triste se sai chi sei se sai che stai facendo ciò per cui sei nata capisci ecco è lì che nasce poi il coraggio il coraggio è in un certo senso la conseguenza del di ciò che siamo no è un comportamento quindi non è al contrario anche in questo caso di quello che uno a cui siamo abituati no devo agire con coraggio devo prendere coraggio no come se fosse qualcosa che devi prendere a chi appare no e fare tuo no il coraggio è una conseguenza io sto agendo no secondo la mia natura e di conseguenza quindi agisco in maniera coraggiosa infatti la virtù del coraggio è una delle quattro virtù cardinali e giustamente secondo me in maniera più che corretta veniva chiamata fortezza che me che ancora ha un significato ancora più bello del semplice coraggio perché rappresenta proprio sia una fortezza nel senso tipo medioevale del termine no quindi tutto d'un pezzo e sia ti trasmette il senso di forza che agisci nel mondo certo bellissima parola vero assolutamente poi come hai detto tu insomma imprime anche una certa energia proseguiamo in questa lettera naturalmente noi prendiamo qua e là delle frasi un altro passo dice egli sentirà il dolore perché nessuna virtù toglie all'uomo la sensibilità ma non avrà paura senza lasciarsi abbattere guarderà dall'alto i suoi dolori idem no ad un certo punto tu i tuoi dolori se tu sei in perfetta armonia con te stessa no con la tua natura con quello con i e capisci il motivo per cui sei venuto al mondo ebbene ad un certo punto ti guarderai come dall'esterno no e anche dolore sofferenza morte per te saranno cose distanti perché sai che fanno parte solo di una missione è bellissima come come questione è lì che ottieni forza comprendi quello che sta accadendo provi anche ma non ne vieni travolta da quella da quello che sta accadendo ecco la visione fortissima stoica ed ecco perché i grandi uomini di un tempo sono sempre stati stoici magari in tanti nemmeno lo sapevano però avevano facevano propria la visione stoica sempre per forza perché come abbiamo detto tante volte lo stoicismo modo di essere modo di vivere il mondo modo di percepire il mondo una delle cose appunto importanti è capire che sei qui di passaggio per svolgere un compito non di passaggio nel senso trascendente del termine cioè nel senso che poi andrai in un altro in posto no sei qui per svolgere una missione un compito e a te deve interessare solo questo punto fai quello che devi fare e capisce che a quel punto beatrice la paura svanisce diventi anche estremamente una persona estremamente razionale non più emotiva perché guardi alle cose come un giocatore di scacchi guarda la scacchiere in sostanza no devi fare quello che devi fare diventi fortissima come persona certo che è esattamente l'opposto di quello che accade oggi ecco beh sì oggi abbiamo qualche difficoltà nella gestione della paura e del coraggio da ultimo però abbiamo deciso anche di come dire ritornare un po alle cose d'attualità e abbiamo visto il film dune e si riprende la questione della paura c'è una frase tratta dal film che fa così non devo avere paura la paura uccide la mente la paura e la piccola morte che porta con sé l'annullamento totale guarderò in faccia la mia paura permetterò che mi calpesti e mi attraversi e quando sarà passata aprirò il mio occhio interiore e ne scruterò il percorso là dove andrà la paura non ci sarà più nulla soltanto io ci sarò ecco questo è un concetto fortemente stoico totalmente stoico al di là del fatto che il film dune non è stoico è questo lo vogliamo questo questo diciamo magari ha altri richiami non lo so però diciamo che anche perché forse esatto esattamente cioè perché il film fa seguito ad un noto lavoro letterario no però dico al di là di quello in realtà quasi tutti i film di fantascienza invece pescano a piene mani da buddismo filosofie indiane stoicismo perché insomma questi eroi del futuro star wars è proprio veramente pienissimo di questi riferimenti e così anche altri film evidentemente sono sono mondi che affascinano evidentemente sono filosofie che ben si sposano con quella che è la visione del futuro di questi registi e sceneggiatori ma forse sai proprio si lega a quel concetto di vedere a distanza la vita dell'uomo il la fantascienza guarda l'uomo no riesce ti porta a guardare l'uomo dall'esterno in un certo senso no fa quello che consigliano gli stoici no arrivare a guardarti dall'esterno e quindi quando ti guardi dall'esterno vedi che fai parte che sei una piccola parte di un grande tutto anzi soprattutto nei film di fantascienza quelli ambientati nello spazio questa cosa si vede ancora di più no dove puoi anche distruggere un pianeta intero non cambia nulla questo si vede sia in guerre stellari sia appunto pure in dune no dove c'è questo mondo completamente distrutto e diventato totalmente un deserto ecco questa cosa ti fa capire ancora di più questo tipo di questo genere di film ecco ti portano a vedere quanto siamo nulla quanto siamo una piccola cosa e quanto però nello stesso tempo siamo chiamati ad agire in questo mondo a svolgere la nostra parte comunque comunque quindi richiami a queste visioni del mondo che sia la filosofia stoica oppure oppure come dicevi tu il buddismo altre o altre dottrine diventa inevitabile in questo caso nella frase la paura uccide la mente dicevo è puro stoicismo perché lo stoicismo ti dice guarda tu devi svolgere la tua funzione in questo mondo innanzitutto devi capire qua qual è la tua missione e come faccio io a capire qual è il mio scopo il mio compito gli stoici ti danno anche ti rispondono e ti dicono guarda cose che ti caratterizza l'uomo è la ragione e la mente appunto no l'uso l'usare la testa no ecco quindi tu per compiere la tua missione devi rimanere una persona devi diventare innanzitutto e poi devi restare in quella in quella posizione una persona razionale devi usare la testa devi ragionare devi riflettere questo significa che non devi cadere nell'emotività e non parliamo negli istinti se tu riuscirai a essere come nella poesia anche di if che abbiamo letto nell'altro video una persona lucida razionale ebbene agirai da uomo secondo la tua natura già un bel passo direi no la paura cosa fa come dice la frase di dune uccide la mente ti allontana dalla tua natura e quindi collassi smetti di svolgere la funzione per cui sei venuto al mondo ecco quanto è potente effettivamente questa frase la paura uccide la mente e uccide l'uomo poi infatti quando viviamo di paura l'uomo cade nell'angoscia nel malessere nel non senso dell'esistenza ed è ovvio del normale perché diventiamo come un albero sradicato dal nostro terreno il nostro noi siamo come alberi che devono vivere con le radici all'interno del terreno nel proprio ambiente e così via quando abbiamo paura ci stacchiamo dal nostra dalla nostra dal compito per cui siamo venuti al mondo e quindi diventiamo come alberi sradicati è ovvio che poi iniziamo a marcire ecco quanto importante dovremmo avere un po più coraggio e come dicevi tu e sottolineavi non si tratta di prendere coraggio il coraggio c'è già da qualche parte nascosto dentro di noi bisogna la conseguenza dell'agire bisogna farlo emergere bisogna richiamarlo da qualche parte e agirlo come come giustamente suggerivi tu michele grazie di questo nostro nuovo appuntamento ci ritroviamo la prossima settimana con michele putrino grazie grazie a te ciao beatrice fabbrica della comunicazione iscriviti al canale youtube e attiva la campanella per non perderti le novità segui le interviste video sul sito anche su telegram e gli speciali in podcast su spotify sostieni fabbrica della comunicazione insieme possiamo costruire un mondo migliore grazie a te